No ma tu cosa mi vorresti far bere? Un vino francese? Che cos'è? Sangiovese Cuvé all'italiano? Ah, un francese che si prende per un americano, Jeff! E che c'è qua c'è cocco? Oh, il calo è sempre stato nero! Che c'è che si inventano il mondo i francesi? Ma non ci posso credere! Si osano fare ciò a noi! Non, 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 non! Non rigolo, eh? Ma rigolo! Ma quando mai? C'è il mondo all'inverso! Impossibile! Chi si mette a fare una cosa del genere? Ma che?